Un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Sono Cosimo Mascolo, sono il compositore e arrangiatore di brani musicali. La musica è una mia passione, un hobby non è la mia professione. Oltre alla composizione ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con men e piano bar. Ho 70 anni, vivo in Italia, sulle Dolomiti Belonesi è precisamente il calore. Un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e arrangiatore di brani musicali. La musica è una mia passione, un hobby non è...